La fine della festa di Pania. Auguri! Viva la cacca! Viva la cacca! Che cosa di caccia! Le fragole? Mi dà nessuno aiutando? No, 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 peccatità, peccatità! Peccatità, peccatità! Ma ti stai sdiffando le fragole? Che stai facendo? Aiuto! Sare qui con noi! Ehi, 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 ehi! Chiara, ti segnali a chiesti? Non sta. No, non ti impegnare troppo! E stiamo arrivati in uno, due, tre, faccio sempre sei! Ti sei contata due volte! No! No! Ti sei contata in sei, l'uomo! Sei? Sì! Ma se hai vinto in doppia gara, allora, guarda, se mi c'è di contare a te, non mi sei! Bagna! Quanto sono meglio io? Oh, se vedi tu? Che vuoi? Inviso? No! Scusa, il mio telefono! Aspetta che finisce il video! Scusa, non vuoi genire! Ti sei finito in scopo sui faccioli! C'è, 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 c'è! C'è, 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 c'è! C'è, 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 c'è! C'è, 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 c'è! Sì, ci sono porchettine! No, non la piegherai col pensiero! Non ci è! C'è, 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 c'è! l'idea leggerla e guarda la parola il fatto che ho non ho detto che non voglio dire che non voglio dire che non voglio dire che fallo fallo un'argomento che è il fatto che il tempo rara pari appuntamenti carino la leccata per poter vedere che si è seccata in faccia l e io ho detto oggi è una rete ognuno di una canella è un vero film filmato che poi quanto è una coltura però non lo butterei, già te lo dico lo ha già sputato, lo ha litato è stupendo questo cellulare si, bellissimo salutate, saluta Fania vabbè, non saluterai la cacca